Raghi, vi immaginate se tutte le ragazze del mondo sparissero? Riuscirò a vivere in un mondo di soli uomini Notizia dell'ultima ora Tutte le ragazze di Brookhaven stanno scomparendo Quante ancora dovranno sparire prima che tutto questo finì? Raghi, la situazione è terribile Ho cambiato casa, ve ne siete accorti? Perché a quanto pare tutte le ragazze di Brookhaven stanno scomparendo E io ho deciso di nascondermi in un'isola proprio lontano da tutti Infatti adesso si possono prendere le nuove case sulle isole che sono uscite da poco su Brookhaven E io ho deciso di nascondermi qui Penso che ci sia qualcosa di strano su Brookhaven Infatti per andare in città e vedere che cosa succede dovrò nascondermi e fingermi un ragazzo Direi di iniziare proprio dalla faccia Voglio cercare Boyface e vedere se trovo qualcosa di carino Perché comunque, cioè sì, ok ragazzo, ma voglio essere anche un ragazzo bello Altrimenti no Questa faccia mi sembra abbastanza buona Poi ovviamente vogliamo anche dei capelli adatti a un ragazzo Insomma, non lo so Facciamo capelli blu? No, sembra un amico di Roby così Che dite così? Gli ho tagliati tantissimo e ho fatto le punte blu Dai, mi va bene Ora però vorrei anche dei vestiti Eh, che ne dite così? Direi che sta venendo bene Però c'è ancora qualcosa che non va Su Brookhaven intanto possiamo modificarci la corporatura Quindi magari posso farmi, non lo so, un tizio un po' più così Ok E siccome ho gli occhi blu voglio abbinarci un accessorio o qualcosa del genere Magari qualcosa che non fa schifo Non lo so Ragazzi, come si vestono i ragazzi? Dai, questi mi piacciono Forse, forse mi metterei veramente tipo una spada o qualcosa del genere Tipo questo Eh, è orribile Però se ci aiuta a mimetizzarci meglio Va fatto ragazzi Dai questo Ovviamente dai anche un paio di corna da demone Perché tanto io vedo che tutti i ragazzi hanno un paio di corna da demone E quindi Ma queste sono da caprone Che schifo Ok ragazzi Questo è il mio outfit definitivo Sembro più appunto re-roll Che non lo so In una versione futuristica Vabbè, lasciamo perdere Ora dobbiamo andare in città Vi dico già che la situazione è terrificante A quanto pare un sacco di gente ha iniziato Non lo so A non seguire più le regole Dicono non ci sono più ragazze E quindi si lamentano tutti Eccoci ragazzi Ci siamo quasi Guardate un po' È tutto in fiamme Guardate aerei caduti Camion Oh mio Dio C'è un ragazzo lì che sta camminando Ok, ok Non facciamoci vedere Comunque voglio evitarli Perché non lo so È successo un disastro qui Magari ci sono ancora i ragazzi buoni Però con tutte queste fiamme Di chi mi devo fidare Io mica lo so In realtà sono venuta qui per vedere Se c'è qualche ragazza Che ancora non è sparita E che io posso aiutare E portarla, non lo so A casa E boh Almeno una coinquilina Magari se trovassi anche solo un ragazzo a casa Oh, oh C'è qualcuno Ma c'è qualcuno qui Siamo un po' scialli Un po' Sf Facciamo finta che Di niente Bro, vieni, vieni Oh sì Ciao bro Ciao bro Sì, stavo provando dei vestiti Qui Vestiti nuovi Tuoi sono orribili Oh Bro Ma ti pare Ma modo di parlarmi Senti ma Piuttosto Sai niente delle ragazze Beh, sono sparite Non c'è molto da dire Sì bro L'ho visto Scusa Sì bro L'ho visto Ma tipo così Sì, a caso Bro, ma io esattamente Che ne so Io vendo magliette Raghi, non so se riusciremo a prendere delle informazioni da lui Se proprio vuoi sapere qualcosa in più Sì Di certo non devi chiedere a me Però La Truman Gang potrebbe saperlo Anzi Lo sapranno di sicuro Oh Grazie bro Mi raccomando Tieni, tieni i soldi Vabbè, gli ho pagato ragazzi la maglietta Ok Ha parlato di una Truman Gang Tipo la gang di veri, di veri uomini Ma che cacchio Il problema ora è un altro Com'è che io la trovo Questa Truman Gang Dove sei finita? Ci ho visto bene raghi Era una ragazza Non ci credo Non ci credo Il tizio mi sa Che la stava seguendo Aspetta Io ho visto benissimo Dove è andata È qui dietro Eh O forse O forse no Me la sono persa Non ci credo È qui No, non voglio farti del male Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Guarda Me ne vado Me ne vado Ok Ok E lì su Mi sta spiando Non voglio farti del male Me la censura Ma ho detto Sono una ragazza Anche io mi sto solo nascondendo Cosa? Non sei sparita come me Mi chiedo perché Raghi siamo rimasti tipo Solo io e lei Questo posto è pericoloso Devi andare via Se ti trovano Sparisci Raghi ma Era proprio qui un secondo fa Ma com'è possibile? Grande bro Oh mio dio Oh mio dio Mi ha fatto Mi ha fatto venire un infarto Questo qui L'hai trovata Meno male Ma in che senso l'ho trovata? La stavo per perdere di vista Eh eh Già Eh sì bro Ma sei nuovo? Non ti ho mai visto qui Eh nuovissimo Sai cosa? Mi sembri proprio Adatto a conoscere una persona Vieni Ok Ragazzi questo server sta diventando sempre più strano Aspetta Ok Sono qui Ti farò entrare Capo Ho qualcuno da presentarvi Sarà meglio tu non mi stia facendo perdere tempo No capo Lui è quello che ha trovato l'ultima ragazza Oh Tip tip Cosa devo scrivere? Raghi salve Salve Oh sì 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 Salve salve Prego accomodati Non ti avevo mai visto Ma hai una faccia conosciuta No non lo so io non sono mai stato qui Mai proprio In ogni caso A quanto pare sei riuscito a trovare l'ultima ragazza La cercavamo da giorni Quella lì non voleva uscire dal server Ah sì ma ho una domanda Ma perché sono tutte sparite quindi? Le manda via lei? Cioè Perché? Beh direi che sei degno di sapere Ma in ogni caso Boh È semplice Le ragazze Mi annoiano È una motivazione del cavolo Però Raghi se è lui che comanda tutta questa situazione Se io riuscissi ad avere I suoi stessi permessi Potrei far tornare tutte le ragazze Mi è appena venuta una grande idea Che ne dite se per festeggiare Non facciamo un party a casa mia? Solo Solo ragazzi ovvio Direi che ce lo meritiamo Arriviamo fra qualche minuto Perfetto Perfetto Raghi ho il tempo Di preparare casa mia Sicuramente La vedranno Ma glielo dico Casa 35 Infatti alla casa 35 C'è il mio bunker Però se voglio fare colpo sul capo Dovrò allestirlo Beh un po' meglio di così Ho capito che questo tizio è molto stereotipato Perciò cercherò Di esaudire i suoi desideri Intanto Riempirò queste pareti Tipo di armi Di roba che No Tom Maschi Uuuu Anche se non c'entra niente Poi beh sapete che cosa cibo Cibo ovunque Quello in realtà piacerebbe anche a me in casa mia Cibo ovunque Però non si può fare È un po' Un po' antigenico In più un angolo di spazzatura Che non fa mai male Vestiti Posso sembrare un tipo che si diverte Quindi ci metto una batteria Ed è uscita pure del mio colore E poi beh deve essere un party Direi che le luci Non devono mancare Quindi le mettiamo qui Dite qualche palloncino Però deve essere rigorosamente Blu Dai questi vanno bene Vedo che ti piacciono i bunker militari Anche al mio amico Oh Rocky Questo è stato totalmente casuale Io ho preso questa casa per nascondermi E in più la maglietta militare L'ho presa a caso mentre parlavo con il tizio di prima Eh certo ovviamente Eh che ne dite Venite venite entrate Ho preparato una bella bella festa Bel party Proprio anti ragazze Eh sì a voglia Venite sedetevi Io ho dimenticato È una cosa purtroppo La macchina per la musica Insomma per farci ballare Ah davvero? Sai metterla qui dentro? Bene vai a prenderla Corro subito capo A voglia Ok raghi perfetto Questo è il primo punto del mio piano Li ho portati tutti in casa mia Ora quello che farò è sabotare uno di loro due In pratica quello lì con la casa più vicina Questa è la casa del tipo Ho un piano Praticamente farò credere che lui in realtà è una ragazza Eh lo so Oppure sta magari dalle parti delle ragazze Quindi metterò un sacco di cose Insomma un cartello Tipo così Ragazze qui siete al sicuro Mettiamo un altro po' di roba Con i cuoricini Vai 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 Ok ok non ho molto tempo E in più lo allontanerò dal capo Come? Beh gli devo rubare la casa Cioè rubare i soldi della casa Tipo così Ora lui vedrà la notifica Perfetto E insomma di solito la gente quando viene bombardata Si fionda nella propria casa Io sparirò E tornerò a casa mia Spero tanto che il tizio se ne sia andato E non ci sia Perché poi devo far sparire pure l'altro suo amichetto Quello vestito da militare Posso andare capo? Permesso concesso Vieni Sì sì Seguimi Vieni con me Ok perfetto Senti Aspetta un secondo qui Ho dimenticato di prendere una cosa Va bene Sì sì Ciao Ok l'ho bannato da casa Ora tocca solo farmi dare i poteri del server Dal capo di questo server Senti Ora che siamo soli bro Ti sei accorto degli altri due? Dimmi bro Cosa? Quella ragazza che ha detto il tuo amico di non trovare In realtà stava camminando con lui Ah sì? Beh in effetti ci metteva molto tempo a trovarla Penso fosse la sua fidanzata E poi Per me non dovresti proprio fidarti Anche cosa sua mi sembra sospetta Beh non ci avevo fatto caso O meglio non l'ho mai vista Perché è casa sua? Beh diciamo che dovresti proprio vederla Eccoci qui Questa è la casa incriminata Entri signor capo Sì sì Eh? Cos'è quel cartello? Ragazze qui siete al sicuro Molto sospetto eh Capo? Che ci fa qui? Non era la festa Tu sei un traditore Proteggevi le ragazze No no aspetti Eh sì 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 mi dispiace capo Non è come sembra È la tua fine Capo aspetti Di a me l'onore di poterlo bannare Sai cosa? Non lo so Ti prego ti prego ti prego ti prego Però ti sei mostrato fenele Te lo meriti Oh mio dio raghi Forse mi ha dato i permessi Grazie capo Non se ne pentirà E adesso raghi Possiamo bannare tutti i giocatori Che vogliamo A partire proprio dal nostro capo Capo? Oh mio dio Sì è andato E ora tocca a te Capo Ciao ciao amico Mi dispiace tanto Anzi non mi dispiace per niente Raghi è arrivato il momento Di restituire a Brookhaven Tutte le sue ragazze E soprattutto fatemi sapere Qual è il server più strano In cui siete stati tutti Io beh decisamente questo